15 ottobre 2017 trasparenza calabresi in rete inciviltà allo stilato 3 eccolo questo è il terzo punto il terzo punto è un frigo congelatore a pozzo di tutto di più vetro plastica copertori bruciati plastica da buzzer lecce domestici scarti materiale enamoratori e termine triturata e piastrelle di scarto plastica plastica pezzi d'auto pezzi d'auto e questo di smaltirebbero tranquillamente quando le varie azienze che lavorano vicino le carrozzerie vicino e ditte che operano nel campo automobilistico materiale di scarto muratori muratori civili da nobel questi sono muratori civili da nobel bisognerebbe dare un premio nobel nel 2007 questi muratori beccarli e fai un bel un bel bonifico di 500 euro meno e e poi il vizio vizio andrebbe tagliato ecco qua ecco acqua per attuali che forse una volkswagen mascherina a bene bene c'è di tutto di più trasparenza calabresi in rete vi saluta terzo video in civiltà nello stilaro buona domenica